Ecco Sindaco, oggi il Ministro porta la sua vicinanza a questi lavoratori, la vertenza è una vertenza molto complicata e soprattutto i tempi sono molto stretti. Sì, lo ricordiamo spesso ma è bene dirlo anche oggi, si tratta di 450 dipendenti diretti e di circa 300-350 persone che operano nell'indotto. Quindi coinvolge 800 famiglie del Valdarno e non solo, è una vertenza non importante, è importantissima e il tempo gioca un ruolo fondamentale dato che il Tribunale ha dato 120 giorni di tempo, quindi un ombrello di cui l'azienda può godere rispetto alle legittime esigenze dei creditori, dei crediti sommaturati fino al 31-12. Ora le risorse che hanno vengono impiegate interamente per acquisire i materiali necessari alla produzione, ci risulta che all'incirca siano 8 su 16 le linee produttive in azione in questo momento, ma come sempre abbiamo detto questa è una crisi finanziaria, non industriale, perché la FIMER opera in un settore che sta andando particolarmente bene, i competitor tripliano i loro fatturati e altrettanto avrebbe la possibilità di fare questa azienda. C'è necessità però di investitori che portino delle risorse indispensabili per il ciclo produttivo e bisogna fare presto e bene, questa è la verità, per questo stiamo mantenendo alto il livello di attenzione per tutelare i dipendenti e l'indotto e io ringrazio ovviamente il Ministro che è presente perché ha un ulteriore supporto da parte del Governo. Di fatto è il Governo avere gli strumenti maggiori per poter indurre la proprietà a chiudere un accordo in tempi celeri con l'investitore e la proprietà stessa vorrà. L'importante è che abbiano un business plan efficace, le risorse necessarie e soprattutto che vogliano mantenere il livello di occupazione che c'è nello stabilimento valdarnese. Tra l'altro gli ordini ci sono, si parla di milioni di euro? Sì, di tanti milioni di euro di ordini proprio perché il settore del solar è un settore che grazie alla transizione ecologica sta andando molto bene. È ovvio che non è che i clienti aspettano mesi e mesi per vedere soddisfatte le loro richieste e per mantenere questo parco di ordini è importante per l'appunto avere la liquidità necessaria per approvvigionarsi delle materie necessarie. Questo è un po' il tema all'ordine del giorno, vediamo che per fortuna la nostra comunità si è fortemente sensibilizzata, sono presenti qui stamani gli amministratori del Val d'Arno ancora una volta a testimoniare che uniti stiamo lottando per questa vertenza e per i lavoratori.